io fuoco l'abbia fatta no 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 è una bomber praticamente non mi metteva le bombe nelle cose piccole è una bomber bevo il coffee e mi faceva esplodere nei supermercati E la gente per me si ammalava Frullino Buono, la glassa al cioccolato Allora uno gli ha cascato il telefono Gli fa tu guarda che è caldo di te Ma sei scema non hai capito niente Lo devi rubare Sara dove stai in labbra? Wow Sara che bella è casa tua Quindi tanto mi piace direttarmi nella lettura Ragazzi benvenuti a casa mia Questa è la mia angolo cottura Ficcia Che bella con la poltrona floreale la voglio Sara con la poltrona è perfetta per te Raga ma quel divano ti mangia? Stai rubando una pianta? No voglio una foto Cosa stai cercando? Telefono Un'altra USB Sì C'è questo cuscino 89 euro Spero che sia fatto d'ora Cosa sono? Stugne? Quanto costano? 89 euro? Il nifletto nero? Comprò tutto il resto chiaro? Dove devi andare in un posto felice perché è nero Guarda la tua cucina domotica sull'iPad Un po' più lo schermo Cioè è rimasto così In basso Si è bloccato lo schermo Già ma non si deve più La cucina finalmente è tornata a casa posso preparare qualcosa Allora accendiamo i cornelli Un po' di vodka Oh mio Dio mai finito questa lavatrice Benvenuti nella mia unghile in casa Unghile Unghile Oppure questi colori qui Prendi anche queste scarpe? Cioè è quello che si mettevano quegli antichi Buddha in testa Ma cosa dici? Fai così Una scheggia il mano Sì Perché sei impallato Questo panda gigantografo Butto Costa Ah è qui E' così clericale Una cosa fischi Un orso L'ingongo barrier È tipo pagola Non capisci un caso Non è la stessa cosa Sì che è la stessa cosa No La marmellata è quella con i pezzi La confettura è invece quella liscia No perché mi hai mangiato della marmellata che era liscia La marmellata è quella liscia La confettura quella che mangiamo sempre Quella con i pezzi Cappere Biscotti al cioccolato Li voglio Li prendo Io non ho ancora mangiato Stai tiri da una parte e tiro dall'altra Ma è buono Mi piace la consistenza croccante E cioccolato Sono di cornflakes Ma che canzone è? Questi biscotti si chiamano caffere Sono buonissimi Buonni Questo secondo me è buono Guardi E' qui dentro Lì dentro Non è una pallina Oscar Oscar Fermo È lì È la palla Oh Quella brutta Che c***o